Ciao, sono Matto Bignotti, ho 36 anni, vengo da Brescia e canto l'Armando di Gielnacci. Era quasi verso sera, se ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera. È caduto giù l'Armando, commissario salarmando, era proprio il mio gemello. Però ci volevo bene, come fosse mio fratello, stessa strada, stessa osteria.